Dieci anni di cultura, di dibattiti e di importanti incontri che hanno deliziati i turisti che hanno scelto di passare le vacanze a Praia Mare. Stiamo parlando della rassegna Praia Mare Con, ideata dal giornalista Egidio Lorito, che quest'anno è giunta alla sua undicesima edizione. Undici gli appuntamenti che si terranno tra luglio e agosto in Piazza Italia, più un dodicesimo che gli organizzatori stanno definendo in questi giorni, ma per il quale è meglio tenere il riservo. La Kermess inizierà questa sera alle 22.15 con lo scrittore torinese Luca Bianchini, che si è guadagnato la notorietà grazie alle storie pugliesi di Io che amo solo te. Dopodiché, venerdì 21 luglio sarà la volta di Silvana Giacobini, mentre il 27 luglio ci sarà Andrea Leccese. Agosto sarà il mese caldo, il 2 ci sarà Gianluigi Paragone, il 5 Marina Ripa di Meana, il 7 i Fatebene Fratelli, il 10 Simone Di Meo, il 12 Gerardo Sacco, il 16 Maurizio De Giovanni, il 26 Luciano Garofano, il 28 Sergio Brio e Pasquale Gallo. Una puntuale e breve presentazione della rassegna si è tenuta ieri sera in Piazza Italia, presenti anche alcuni componenti dell'amministrazione praticò, a dimostrazione che l'intera rassegna è ormai diventata un appuntamento fisso dell'estate praiese, che ha innalzato il livello dell'offerta turistica della città dell'Isola Dino. Una rassegna nata con un'altra amministrazione ma portata avanti anche dall'altra, detto Lorito, ciò dimostra che le cose buone hanno sempre una continuità. Grazie quindi a chi ci ha creduto e a chi continua a crederci. Il mio obiettivo è stato sempre quello di dar vita a una kermesse ricca di spunti e incentrata sul dibattito con il pubblico. Anche quest'anno abbiamo personaggi del mondo culturale che parleranno di temi importanti ma alla portata di tutti. Grazie a tutti.